La Guardia di Finanza di Lucca ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, nei confronti di un imprenditore 45enne originario di Caserta, residente provincia di Lucca, al quale erano già stati sottoposti a sequestro beni immobiliari e immobiliari, nonché compagini societari per un valore di circa 750 mila euro. L'attività prende spunto dall'operazione Ghost Tender, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Lucca, che nel marzo 2018, sotto il coordinamento della Direzione di Stretto l'Antimafia di Firenze, aveva portato ai primi sequestri di beni all'arresto di 5 persone, tra la Toscana e la Campania, e dalla denuncia a piede libero di ulteriori responsabili in quanto appartenenti ai fiancheggiatori di un'associazione a delinquere operativa dal luglio 2013 nella provincia di Lucca e vicina ad un clan camoristico, Casalesi, Fazione Zagaria, radicato nel casertano, dedita all'idecita giudicazione di appalti, alle frode pubbliche forniture e al riciclaggio. Nell'ambito delle indagini era stato individuato un gruppo criminale che ruotava attorno agli imprenditori edili residenti in provincia di Lucca e Caserta, i quali, utilizzando per stanome società compiacenti, molte delle quali apri e chiudi, si aggiudicavano decine di appalti dell'ASAN Napoli 3 Sud per milioni di euro in relazione a commesse per lavori edili banditi con importi inferiori ai valori soglia, al di sopra dei quali sarebbe prevista la procedura ordinaria di affidamento. A tale scopo il Sud Alizio aveva stabilito rapporti corruttivi con un dirigente della predetta ASOL, il quale non solo aveva giudicato l'appalto in violazione alle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva addirittura consentito al Sud Alizio di conseguire il pagamento pur in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori. In questo modo le imprese riconducibili al gruppo criminale erano risultate a turno a giudicatare di numerosi appalti per lavori falsamente attestati come avvenuti, ma di fatto in gran parte non eseguiti. Il procedimento penale relativo ai fatti finora esposti vede attualmente in corso di svolgimento la fase dell'udienza preliminare. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato la pericolosità del soggetto sottoposto alle indagini, in quanto ritenuto indiziato sia dei reati commessi al fine di agevolare l'attività dell'Associazione Mafiosa dei Casalesi, Fazione Michele e Zagaria, che di trarre i propri mezzi di sostentamento da delitti a sfondo patrimoniale. Nel contempo è stata appurata la sproporzione del patrimonio disponibile rispetto al proprio reddito in relazione al periodo temporale di riferimento.